Nel 1963 scrive il testo del brano del maestro Giovanni Fusco Un mondo nuovo cantato da Chico Fusco, che fa parte della colonna sonora del film di Paolo e Vittorio Taviani Fuorilegge del Matrimonio. Pubblica nel 1964 la sua prima canzone, Parole e Musica, Deati Voi cantata da Daniela Casa, partecipanti al concorso radiofonico Un disco per l'estate 1964. Nel 1965 scrive, fra gli altri, per Rosanna Fratello non fa niente, per Elio Cipri c'è chi dice che, come paroliere scrive i testi per il gruppo musicale Le Pecore Nere pubblicando un album nel 1966. Nel 1968 conosce Riccardo Cocciante, con il quale collabora scrivendo canzoni per i Vianella come Piccolo Fiore, e per altri artisti della R.C.A. Nel 1972 pubblica il primo album di Cocciante, Mu, sempre nello stesso anno scrive anche con Paolo Amerigo Cassella alcuni testi nell'album Mannoia, Forezi & Co. Nel 1973 esce l'album Poesia di Cocciante. Il brano omonimo verrà cantato anche da Ornella Vanoni e Patti Bravo. La Vanoni canterà anche il brano Canto Popolare. Inoltre scrive i testi di Un Frutto Verde e La Musica del Sole per il gruppo La Grande Famiglia. Nel 1974 diventa anche produttore di Cocciante. Con lui pubblica l'album Anima. Che comprende i primi successi Bella senza anima e quando finisce un amore. Che saranno poi cantati da Mina, Johnny Allidei, Mia Martini e vari altri. Bella senza anima verrà tradotta in spagnolo, francese ed inglese, e sarà prima in Spagna. Venezuela, Cile, Argentina e Brasile. Quando finisce un amore entrerà nella classifica degli Stati Uniti e sarà prima nel 1999 in Olanda. Tradotta e cantata da Marco Borsato, W-A-R-O-M-N-O-U-J-I-J. Quando finisce un amore, scrive i testi di un 45 giri di Fiorella Mannoia Ninna Nanna e Rose per la RCA. Nel 1975 produce e scrive i testi dell'album L'Alba di Cocciante. L'album comprende anche il brano Era già tutto previsto, che verrà poi incisa nel 2013 da Andrea Bocelli nell'album Passione e Canto Popolare, incisa anche da Ornella Vanoni. Nel 1976 scrive e produce l'album Concerto per Margherita, comprendente il brano Margherita, che sarà primo anche in Spagna, Francia, e in molti paesi del Sud America. Nel 1999 in Olanda il brano sarà tradotto e cantato sempre da Marco Borsato riscuotendo un notevole successo di vendite. Produce inoltre il primo album di Mimmo Locasciulli. Nel 1977 produce e scrive i testi dell'album Riccardo Cocciante con il brano di successo a Mano a Mano, che verrà anch'esso inciso nel 2013 da Andrea Bocelli. Produce il primo 45 giri di Enzo Carella. Fosse vero, per la hit, etichetta di Vincenzo Micocci. Nel 1978 produce e porta al Festival di Sanremo il brano Il mio amore della scuola Cantorum, gruppo musicale. Nel 1979 produce e scrive i testi di E io canto di Cocciante. Come produttore porta Enzo Carella al Festival di Sanremo, secondo posto della classifica generale. Con il brano Barbara, testo di Pasquale Panella. Nel 1980 partecipa a Sanremo con il brano Passera Cantato d'Alberto Kelly e apre una sua etichetta. La Slot Machine, come paroliere scrive per Anna Oxa i brani del 45 giri Controllo Totale, Metropolitana. Nel 1981 scrive, sempre per Anna Oxa, il brano Toledo, scrive e produce, collaborando con compositori emergenti, tra cui Amedeo Minghi e Vincenzo Spampinato. L'album Via di Marina Arcangeli, che sarà pubblicato anche in Germania con successo. Nel 1982 pubblica il suo primo album, Canzoni ed Appunti, per la Polidor, partecipando nello stesso anno al Club Tenko. Nel 1984 scrive e pubblica per la Slot Machine Io amo di Marina Arcangeli. Un album ridotto di soli quattro brani. Che in quel periodo la RCA chiamava Q-Disc. Nel 1987 firma svariati testi dell'album Tanti auguri di Marcella Bella. Nel 1988 traduce dallo spagnolo all'italiano i testi del gruppo Meccano pubblicando in Italia per la BMG l'album Figlio della Luna con successo. Nel 1989 porta a Sanremo Marina Arcangeli con il brano Il Poeta. Dal 1989 al 1991 è consulente alla direzione artistica della W.E.A. e collabora con alcuni artisti della stessa, tra gli altri Grazia Di Michele. Negli anni 90, oltre a gestire un suo studio, L'Orecchio di Van Gogh, scrive canzoni, tra gli altri, Permina, Il Corvo, Fiorella Mannoia, Pover Angelo. Nel 1991 scrive i testi del secondo album dei Meccano, Aidalai. Nel 1993 scrive due testi nell'album di Coccianti eventi e mutamenti. La testa piena, e, ammassati e distanti. Nel 1997 scrive per Tosca. Guarda la vita che fa. Tra il 1998 e il 2000 i brani Bella senza anima. Quando finisce Un Amore e Margherita sono tradotti in olandese e cantati da Marco Borsato. Cantante di origine italiana. E arrivano tutti e tre al primo posto della classifica olandese. Nel 2004 scrive per Patti Bravo il brano Candele. Inserito nell'album Bernie Unic, nel novembre del 2006 esce in 47 stati l'album Io Canto di Laura Pausini. Che contiene la cover dell'omonimo brano scritto con Cocciante. Nel gennaio del 2013 esce in tutto il mondo l'album Passione di Andrea Bocelli. Contenente le cover di due suoi brani. Scritti con Riccardo Cocciante. Era già tutto previsto e a mano a mano. Nel dicembre del 2013 esce in tutto il mondo l'album 20. The Greatest It's di Laura Pausini. Con il brano Jay Esciante. Io Canto. Cantato insieme a Lara Fabian una cantautrice e compositrice belga naturalizzata canadese.